Tutto pronto si comincia, inizia Altamura gravina Poi c'è il tiro, due volte quindi Vlasce e Anu Occhia lo Iodi c'è Poi va il tiro, Vlasce e Anu, l'attenzio, non c'è fuorigioco e c'è il no dell'Altamura Occhia da Silva che prova ad andarsene, va il tiro da Silva Alto Quindi Karmoud va da Bolognesi, il tiro di Bolognesi al lato, calcio d'angolo Palla dentro a cercare Chiaradia, Chiaradia, Chiaradia Esce Fernandez Palla per Lattanzio, Lattanzio Vlasce e Anu Palla dentro, puntoriere, puntoriere, ci prova ancora, puntoriere, fermato Ancora Chiaradia, va al cross e poi blocca Fernandez Occhialo Iodi c'è, punta Demin Palla sul secondo, palo Vlasce ancora Desmo vada a Ramos, che la domestica Ramos Ramos! Bravo Fernandez qui Occhia Demin, vada Coppola, è zona tiro per lui, lo fa partire Coppola alto Palla profonda a cercare da Silva, occhia da Silva qui Da Silva, da Silva, da Silva, Sterza, da Silva, da Silva, da Silva! E poi ci arriva Fernandez E poi l'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce 1-0 Aldangelo E poi l'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce 1-0 Aldangelo